L'Arma dei Carabinieri dalle 9 di stamattina è impegnata nell'effettuazione di una serie di posti di controllo sulle principali via d'accesso della città di Randazzo e in un servizio di vigilanza dinamico all'interno del paese per vigilare su quella che è l'osservanza delle disposizioni emanate con l'ordinanza della regione siciliana. L'Arma dei Carabinieri da sempre è vicino alla popolazione e in questo momento invitiamo i cittadini al massimo rispetto delle disposizioni emanate, questo a tutela chiaramente della salute della collettività. Grazie a tutti. Grazie a tutti.